Musica Buonasera e benvenuti al consulato appuntamento con l'informazione di Televomero. A coltellato perché voleva attraversare le strisce pedonali, colpito più volte a Napoli all'addome da tre ragazzi, tra i quali un diciassettenne. Un cittadino algerino di 53 anni è stato a coltellato a Napoli perché voleva attraversare sulle strisce pedonali, colpito più volte all'addome da tre ragazzi, tra i quali un diciassettenne. L'uomo è attualmente ricoverato in ospedale. È accaduto tutto intorno alle 23 di lunedì sera. Sono stati poliziotti del reparto Prevenzione e Crimine Campania a notare, mentre transitavano in via Galileo Ferraris, l'algerino che invocava aiuto. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, poco prima, c'era stata una lite tra il 53enne, che aveva protestato per il ritardato arresto dell'autovettura, in prossimità delle strisce, e i tre. Il conducente del veicolo, Bruno Emanuele Borrelli, in segno di minaccia e per rispondere alle proteste del pedone, ha fatto stridere i pneumatici dell'auto. L'algerino ha quindi sferrato un pugno contro l'auto, ed è stato allora che i tre sono scesi dall'auto, lo hanno circondato e accoltellato. La vittima ha riconosciuto nel minorenne colui che ha sferrato i colpi. Raccolte le descrizioni fornite dalla vittima e da alcuni testimoni circa gli aggressori e l'auto sulla quale viaggiavano, sono scattate le ricerche. L'auto poco dopo è stata infatti intercettata dai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in via Reggia di Portici, mentre transitava ad alta velocità in direzione di Corso San Giovanni a Teduccio. Aveva il vetro posteriore infranto ed evidenti strisce di sangue sullo sportello posteriore. I tre hanno provato anche a scappare e a disfarsi del coltello, anche quello macchiato di sangue. Bruno Emanuele Borrelli, un 24enne napoletano, il 18enne Ciro Paolillo e un altro 17enne napoletano, sono stati arrestati per il reato di tentato omicidio gravato in concorso. È rientrato a Fiumicino Pasquale Fiorente, 40 anni di torre annunziata, arrestato nel dicembre del 2016 in Cile dopo una lunga latitanza per traffico internazionale di droga. È accusato di essere il promotore di un'organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di droga tra Sud America e Italia ed era in contatto diretto con i fornitori sudamericani di Messico, Colombia, Bolivia e Brasile e di cartelli criminali campani. Un'organizzazione finita sotto i riflettori nel marzo del 2013, quando all'aeroporto di Fiumicino venne arrestata Federica Gagliardi, la cosiddetta dama bianca che si era fatta riprendere al Diotto di Toronto insieme all'allora premier Silvio Berlusconi. Nel trolley della donna c'erano 24 chili di cocaina destinati ad Alessandro Fiorente, fratello e socio in affari di Pasquale. I carabinieri e la compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare tra Volla, Cercola e San Giorgio a Cremano nei confronti di 14 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione, spaccio e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Tra Volla, Cercola e San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, i carabinieri hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal GIP di Napoli nei confronti di 14 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione, spaccio e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Di questi, 12 erano liberi, 2 già detenuti per droga, 10 andranno in carcere, mentre per 3 è scattato il divieto di dimora in Campania e per 1 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine ha portato ad individuare due piazze di spaccio a Volla, gestite da due diversi gruppi criminali. Il gestore di una doveva pagare la quota di 500 euro al clan veneruso ogni settimana, poi riceveva indicazioni su dove andare a rifornirsi in modo da lavorare sabato e domenica, 24 ore su 24. Il pagamento avveniva il venerdì e spesso l'appuntamento veniva fissato nei prestiti in camion di Panini. Durante le indagini sono stati arrestati 10 pusher, sequestrati circa 900 grammi di cocaina e hashish e 5.600 euro in contanti, una pistola a salve con 25 cartucce e un sistema di videosorveglianza. Un memorandum per il rilancio del lavoro pubblico nel mezzogiorno è stato sottoscritto a Napoli dai governatori delle regioni meridionali Campania, Sicilia, Calabria, Molise, Basilicata, Puglia. Nei prossimi 5 anni nel nostro paese, è stato detto, nel corso dell'incontro andranno in pensione circa 450 mila persone. Occorre accelerare fortemente i tempi di reintegro. Per il Sud è una grande occasione per abbassare l'età media dei lavoratori ed aumentare il numero dei laureati. Tutti i obiettivi che le sei regioni firmatari e del memorandum condividono e che possono perseguire senza costi ulteriori di bilancio pubblico perché tutte le assunzioni verranno effettuate rispettando i vingoli di finanzia pubblica vigenti. Lo stallo politico che ha bloccato l'Italia nella prima metà del 2018 è inciso su consumi, PIL e debito pubblico. È giunto il tempo di invertire la rotta mettendo in cima all'agenda di governo le piccole e medie imprese a partire dal fisco e dal contrasto all'abusivismo commerciale e turistico. Questo l'appello emerso dall'Assemblea Confesercenti tenutasi in contemporanea Napoli, Roma e Milano con collegamenti video con i vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini. A condurre i lavori da Napoli il presidente Campania e Molise di Confesercenti nonché membro della Giunta Nazionale Vincenzo Schiavo. È importante e necessario che al centro di questa economia ci siano praticamente le imprese e la forza delle famiglie. Abbiamo bisogno di chiedere al governo cosa che stiamo facendo oggi grazie alla presenza di Di Maio e di Salvini di chiedere al governo di cercare di togliere le tasse alle imprese e alle famiglie. Più le famiglie spendono, più le imprese possono incassare, più le imprese possono pagare le tasse giuste a uno Stato che è al fianco a un'economia sana. Oggi non si può pensare che in Europa l'Italia sia il paese che paga di più tasse sia dirette che indirette. Oggi un imprenditore paga oltre il 60% di tasse. Un gruppo di detenuti del carcere di Ariano Erpino apparese in ostaggio un agente della Polizia Penitenziaria dopo aver fatto eruzione nel reparto in cui si trova l'infermeria della casa circondariale Erpina. A darne notizia, il SAP e il sindacato autonomo degli agenti penitenziari, alcuni detenuti in custodia libera di origine napoletana dopo essersi fatti aprire la porta dell'infermeria, hanno spinto all'interno l'agente in servizio ed un ispettore e sono stati aggrediti e picchiati con pugni e calci. Una situazione davvero difficile nelle carceri italiane. Nasce Ferrovia dello Stato, Mobility Academy, corso di alta formazione dedicata alla mobilità integrata. Promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e formare figure professionali altamente specializzate nel campo della mobilità integrata e dei trasporti. Questi gli obiettivi della Ferrovia Mobility Academy, il percorso formativo post laurea, nato dal partnership tra Ferrovie dello Stato italiani, Università degli Studi di Napoli, Federico II, rivolto a 50 studenti italiani e stranieri in possesso di una laurea in discipline ingegneristiche ed economiche. Il corso multidisciplinare è stato presentato a Napoli da Renato Mazzoncini, amministratore e delegato di Ferrovie italiane. È un corso di specializzazione in ingegneri della mobilità. La mobilità diventa sempre più trasversale. La Federico II ha una tradizione, una storia importantissima nella mobilità. Nasce FS Academy, si unisce alle Academy già partite con Cisco, con Deloitte e con Apple. Siamo la prima azienda italiana a mettere in piedi un'Academy alla Federico II. L'Academy nasce dall'idea che la cooperazione tra università e aziende possa produrre i migliori laureati per le nostre aziende. Ferrovie dello Stato sta assumendo mediamente 50 laureati al mese, tutti i mesi. Dal 2016 sono entrate circa 1.500 laureati in azienda, di cui oltre 800 ingegneri. Quindi per noi è particolarmente importante avere le principali università tecniche italiane che cooperano per formare ragazzi che possano entrare nel nostro mondo pronti per la trasformazione della mobilità che è in atto. Gaetano Manfredi, rettore dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Un progetto importante per la formazione dei giovani. Sicuramente investendo in opportunità di qualità, facendo in modo che ci siano strutture direzionali e reclutamento di qualità a Napoli, questo sicuramente lo debbono fare le grandi aziende che hanno maggiore possibilità di intervento, lo debbono fare le aziende di Stato, lo debbono fare le grandi banche, perché questo è il modo per poter dare le opportunità qualificate nel nostro territorio. E devo dire che l'iniziativa di oggi, insieme a Ferrovie dello Stato, va in questa direzione, perché guarda una formazione di alto livello, rivolta soprattutto a ingegneri, che potranno poi inserirsi nel gruppo Ferrovie dello Stato con una preparazione particolare, molto mirata, e quindi creare opportunità di lavoro qualificato per i nostri giovani. Dopo una lunga e grave malattia e deceduto in ospedale, il procuratore aggiunto di Napoli, Filippo Beatrice, 59 anni, coordinatore della direzione esettuale antimafia, partenopea Beatrice. Beatrice ha portato a termine importanti indagini, tra le quali la cosiddetta calciopoli, ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore a Napoli, dove poi è tornato nella veste di procuratore aggiunto dopo un periodo di lavoro alla direzione nazionale antimafia. Chi lo conosceva lo descrive come un magistrato estremamente equilibrato, una persona dotata di grande professionalità e d'umanità. Ryanair, la compagniera numero uno in Italia, ha celebrato due milioni di passeggeri da e per l'aeroporto di Napoli e un anno di attività nella sua ultimissima base italiana. La programmazione di Ryanair a Napoli per l'estate 2018 include 121 voli settimanali per 28 destinazioni, di cui 18 nuove per lo scalo di Napoli, come Brema, Lisbona, Stoccolma e Varsavia. Un nuovo servizio bisettimanale per Marrakesh inizierà a ottobre, come parte della programmazione per l'inverno 2018-2019. Di Ryanair a Napoli, con 25 rotte in totale, che supporteranno 1.500 posti di lavoro. La celebrazione nel corso di un incontro è quello che ha preso parte dell'assessore Comune al Turismo, Nino Daniele, e l'amministratore delegato di GESA, Carmando Brunini. La forza della città richiama attenzione e l'attenzione che gli investitori mettono sulla città dà ulteriormente forza alla città. Quindi già quest'anno siamo ormai sull'abbrivio per nuovi record in termini di presenza turistica. Noi facciamo i complimenti a Ryanair perché in un anno è cresciuta velocissimamente, anche se non avevamo dubbi, conosciamo la sua capacità di velocemente prendere volumi e produrre volumi sull'aeroporto e sulle destinazioni. Però siamo molto soddisfatti anche perché la loro è una crescita qualificata, sono cresciuti soprattutto su rotte nuove, quindi su destinazioni non coperte da Napoli. Hanno tenuto i voli l'inverno e quindi questo ha consentito da un lato l'aeroporto di crescere tanto grazie a Ryanair ma grazie anche alle altre compagnie aeree perché non si sono sovrapposti, quindi noi abbiamo una crescita veramente forte l'anno scorso e all'inizio di quest'anno dovuta sia al contributo Ryanair sia al contributo delle altre compagnie. Per celebrare il trasporto dei 2 milioni di passeggeri a Napoli Ryanair ha messo in vendita posti a partire da 19.90 per viaggiare fino a settembre disponibili per prenotazioni solo sul sito Ryanair e fino alla mezzanotte di venerdì 15 giugno il manager Kenny Jacobs ha spiegato Siamo assolutamente soddisfatti con le nostre performance e sicuramente possiamo crescere ancora di più, c'è un enorme potenziale qui a Napoli non solo per l'estate ma molto importante soprattutto per l'inverno per estendere appunto la stagionalità ed ecco perché stiamo ospitando anche giornalisti da tutta Europa per sottolineare quanta potenzialità c'è a Napoli. Voce ai giornalisti, soprattutto ai giornalisti minacciati una manifestazione nazionale a Napoli con i vertici della categoria Le minacce, il precariato, cronisti di frontiera, tutele e garanzia di un lavoro tra mille rischi a Napoli. I giornalisti si sono riuniti nella biblioteca Analisa Durante nel quartiere Forcella, un quartiere simbolo per la rinascita per la manifestazione nazionale Voce ai giornalisti una manifestazione unitaria di tutta la categoria il secondo appuntamento in Italia dopo quello di Milano dello scorso 30 maggio tra presenti il Presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Verna Le tre questioni quali sono? Il giornalista ha minacciato fisicamente, va difeso, va difeso con una scorta mediatica torniamo a illuminare quelle periferie dalle quali spesso partono le minacce verso i colleghi che si occupano di certi temi e toccano certi nomi l'altro aspetto sono le querele temerarie è evidente che soprattutto chi non ha alle spalle un editore forte si sente oggettivamente minacciato quando un'iniziativa giudiziale infondata viene intrapresa noi non teorizziamo il diritto all'insulto ma non possiamo ammettere che qualcuno venga temerariamente tratto a giudizio e non abbia poi conseguenze salvo magari la condanna alle spese per aver portato il collega a giudizio e il terzo punto è la precarietà la precarietà della categoria rispetto alla quale l'ordine dei giornalisti d'intesa con la federazione della stampa prenderà un'iniziativa nel segno dell'articolo 36 della Costituzione che prevede che la retribuzione debba essere proporzionata alla quantità e alla qualità delle mansioni ci sono la necessità e il dovere di rilanciare temi essenziali che riguardano la professione ha spiegato il presidente della federazione nazionale della stampa Giulietti è la prima grande assemblea nazionale con i cronisti minacciati non solo con i cronisti minacciati costretti a vivere sotto scorta ma con i tanti minacciati per esempio in Campania, in Calabria, in Sicilia che spesso non si conoscono minacciati quotidianamente e che sono costretti ogni giorno a incontrare coloro che li minacciano clan mafiosi, malaffare, corruzione siamo qui per dire che non dovranno più essere lasciati soli e che ciascuno di loro dovrà avere la scorta mediatica scorta mediatica vuol dire che quando un fotografo, un videomaker, un cronista viene minacciato bisogna andare sul posto con altre telecamere, riprendere le loro inchieste e non lasciarli mai soli perché quando si resta soli allora in quel momento si comincia a rischiare tutti i temi che devono tornare nell'agenda parlamentare ha spiegato dal canto suo il segretario Lorusso Al governo chiediamo di mettere in campo delle azioni uno per contrastare le minacce ai cronisti e ogni forma di bavaglio che quindi rendono meno libera l'informazione due di mettere in campo strumenti concreti per la lotta al precariato Presente alla manifestazione anche Paolo Borrometi giornalista 35enne siciliano vittima di intimidazioni Sono solamente un giornalista che nonostante tutto continua a fare il proprio dovere noi dobbiamo ricordarci che un giornalista che ha una notizia non può non pubblicarla perché non pubblicare quella notizia significa da un lato non fare bene il proprio dovere dall'altro lato non informare i cittadini e i cittadini saranno liberi di scegliere da che parte stare sole e unicamente quando saranno informati io ho 15 processi, ieri ho testimoniato in uno ho 5 condanni a morte da 5 clan diversi però io penso di fare sole unicamente il mio dovere in una terra, la Sicilia, dove parlare di mafia dovrebbe essere scontato e invece ci sono ancora delle province, Ragusa e Siracusa dove per parlare di mafia a volte scopro delle intercettazioni in cui ti voglio organizzare un attentato con un'autobomba 10 appuntamenti dal 27 giugno alla 7 agosto un inizio travolgente per la nona di Beethoven diretta da Juraj Bakwa premiato come la migliore direttore d'orchestra dell'anno e la chiusura affidata a Star di indiscussa importanza dei palcoscenici lirici internazionali la regione Campania ha lanciato il programma 2018 di un'estate da re che porta per il terzo anno la musica sinfonica, lirica e del balletto alla reggia di Caserta e al belvedere di San Leucio la rassegna con la direzione artistica affidata ad Antonio Morzullo vede la collaborazione tra il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Giuseppe Verdi di Salerno Napoli ricorda Massimo Troisi a 40 anni dalla nascita della smorfia il trio formato con Lello Arena ed Enzo De Caro con tre giorni di eventi e proiezioni l'appuntamento con Revuoto 2018 questo è il nome del progetto e per il 22, 23 e 24 giugno in piazza del Plebiscito si tratta del primo evento che vede accanto a tanti artisti e amici di Troisi anche il coinvolgimento della famiglia che ha messo a disposizione i filmati inediti dell'attore il progetto è nato infatti da un'idea di Lello Arena e di Mario Esposito a cui Enzo De Caro e Stefano Veneruso, nipote di Troisi si sono uniti con entusiasmo questo appuntamento, ha spiegato Lello Arena nasce dalla mia esigenza di voler far sì che Massimo potesse ancora una volta recitare con la sua straordinaria potenza attoriale davanti al suo pubblico una cosa che secondo me bisognava fare tanto tempo fa abbiamo sempre chiesto e mai ottenuto che Napoli avesse questa possibilità finalmente, come si dice, a forza di insistere a forza di prendere porto in faccia poi invece arriva il momento in cui ci sono persone e autorità e amministrazioni che sono in grado di dire un sì Siamo qui anche a festeggiare quei tre ragazzi che possono forse essere un piccolo supporto una piccola luce per tanti loro coetanei di oggi della nostra città La partecipazione all'evento promosso e organizzato da tunnel produzioni con la collaborazione del Comune di Napoli è gratuita 5.000 posti a sedere a disposizione in piazza del Pebiscito ma sarà probabilmente allestito anche uno schermo in piazza Trieste e Trento ascoltiamo Nando Mormone di Tunnel Produzioni Questa cosa l'abbiamo vissuta come occasione per noi che mastichiamo la comicità di nuova generazione quindi siamo stati innanzitutto dei fan di Enzo e di Lello e di Massimo quindi dei fan quindi per noi è soltanto una gioia aver messo tutta la nostra forza la possibilità di questi 20 anni di lavoro e di esperienza a disposizione di una roba pregevole come questa Bene, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie come sempre per averci seguito continuate a seguire i nostri programmi intanto buona serata Arrivederci Grazie 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 a tutti.